Musica Venerdì 7 febbraio, buongiorno. Oggi parliamo di lavoro, lo faremo insieme alla responsabile, alla dirigente generale dell'Agenzia del Lavoro della provincia di Trento, Laura Pedron, e poi entreremo anche nelle tradizioni del Carnevale Trentino e andiamo anche subito a Bolzano da Sergio Mucci per sentire che cosa accade in Alto Adige. Buongiorno Silvano, noi ci occuperemo di auto ad idrogeno, del futuro del trasporto non solo pubblico in Alto Adige. Questo dunque per quanto riguarda gli approfondimenti, ma prima di tutto c'è il telegiornale. Politica, il centro-destra Trentino ha scelto, sarà Alessandro Baraccetti, il candidato sindaco a Trento alle elezioni del 3 maggio. La decisione è arrivata al termine di un nuovo vertice di coalizione che nella notte è riuscito a trovare un accordo dopo settimane di confronto infruttuoso. Baraccetti ha 49 anni, avvocato a Trento, specializzato in diritto del lavoro ed è anche consigliere tesoriere dell'ordine. E a Bolzano è sempre più probabile invece un accordo tra Lega e centro-destra unito in corso trattativo. Ai limiti dell'area dell'aeroporto di Bolzano sembra siano partendo dei lavori. All'Aives si teme l'allungamento della pista. Una rete di plastica è un cartellone committente. La società BZ Airport, l'intervento riguarda potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di volo. È solo per mettere in sicurezza l'area, dice Heinz Peter Hager, rappresentante della società. Nessun ampliamento. È un trucco, ribattono Tim Kölensberger e Verdi, perché in realtà stanno preparando proprio l'allungamento della pista. Tra gli oppositori anche il comune di L'Aives col sindaco Cristian Bianchi. A L'Aives quello che preoccupa è proprio che ci sia una continua rimpallo di dichiarazioni che rendono incomprensibile alla popolazione cosa si voglia fare. L'Aives ha classificato la zona sud della pista come verde agricolo. La provincia ha bocciato quella modifica al piano urbanistico. La questione è ora davanti al TAR, il 4 marzo, prima udienza. Il sistema dei buoni pasto è sempre meno sostenibile, a dirlo le associazioni che rappresentano bar e ristoranti. Anche in Trentino le commissioni superano il 10%, in gioco c'è anche il maxi appalto per i buoni pasto dei dipendenti provinciali. Linda Stolta. A livello nazionale si alza un grido d'allarme. Il sistema dei buoni pasto è al collasso e le associazioni che rappresentano ristoratori e imprese della distribuzione minacciano di smettere di ritirare i famosi ticket, come denuncia la Confesercenti. Arriviamo, se non ero, a 150 milioni di perdite del comparto ristorativo. Commissioni troppo alte, arrivano anche al 20%, e rimborsi che si vedono solo dopo 60 giorni. Casi che si verificano anche in Trentino, dove bar e ristoranti che accettano buoni pasto sono oltre 1.500. Una grossa fetta dell'erogazione di buoni pasto è rappresentata dall'ente pubblico, provincia, autonomie locali e scuole. 12.800 buoni ogni giorno, 1.700 locali convenzionati. Ma l'appalto è in scadenza e ancora non si sa chi si aggiudicherà il bando. Parliamo di un appalto, questo che noi aspettiamo con anzi al risultato, in quanto dobbiamo dare anche risposta ai nostri associati, di circa 52 milioni di euro. Ed ora le altre notizie, in breve. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vuole incontrare il cancelliere austriaco Sebastian Kurz per dirimere la questione dei divieti al transito di TIR al Brennero. Lo ha detto rispondendo alla senatrice SVP, Julia Unterberger, che chiedeva cosa si fa per liberare il corridoio del Brennero dal fiume di mezzi pesanti che ogni anno portano 45 milioni di tonnellate di merci oltre confine. Conte ha ricordato l'impegno per la costruzione del tunnel, ma contemporaneamente anche le pressioni che l'Italia sta facendo sulla Commissione europea perché si pronunci contro i divieti imposti in Tirolo al transito dei TIR. L'Alto Adige è un laboratorio di integrazione, ma anche qua ci sono problemi come il precariato, i troppi incidenti sul lavoro e la giungla di appalti e subappalti. A dirlo il segretario generale della CGL, Maurizio Landini, a Bolzano in occasione dell'Assemblea del Sindacato Alto Tesino. E sull'incidente ferroviario in provincia di Lodi, dove hanno perso la vita due macchinisti, dice Nel 2020 le vittime sono già 46. Non è più accettabile continuare a morire sul lavoro. Entro fine mese altre 30 persone in rientro dalla Cina saranno ospitate per la quarantena volontaria all'ex hotel Panorama di Sardagna a Trento, lo ha comunicato il presidente della provincia Fugatti al Consiglio Provinciale. Le persone attualmente ospitate, precisa Fugatti, sono tutte asintomatiche. Se i numeri lo renderanno necessario, la provincia metterà a disposizione anche altri luoghi per la quarantena. Intanto la Task Force Provinciale raccomanda che tutti coloro che rientrano dalla Cina di qualsiasi età effettuino su base volontaria la quarantena di 14 giorni. Aria scadente a gennaio in Trentino. Sono stati superati i limiti delle polveri sottili PM10 e di biossido di azoto in via Bolzano a Trento, a Borgo Valsugana e a Riva del Garda. L'Agenzia Provinciale per l'Ambiente sottolinea peraltro che il numero totale di sforamenti e i valori medi di concentrazione sono stati significativamente al di sotto della media per un mese invernale critico come quello di gennaio. Il progetto Matilde studierà l'impatto dei migranti sulle zone rurali e montane, considerate fattori di sviluppo per tutta Europa. Dieci paesi coinvolti, venticinque soggetti scientifici e denti impegnati. Capofila l'Eurec di Bolzano, dove è stato presentato. In Alto Adige, uno dei tredici casi studio scelti, collabora alla Caritas. Tre gli anni di lavoro previsti, dalle analisi, statistiche e una rappresentazione del fenomeno a tutto tondo, dice il coordinatore scientifico Andrea Membretti. Quindi, suggerimenti per la politica, per vedere la migrazione come una risorsa, non un problema. Cinque serate per informare i cittadini sui disturbi più diffusi e il Forum Salute, che partirà il 19 febbraio a Bolzano con il coinvolgimento di medici specializzati ed ex pazienti, come Luis Durwalder, l'ex presidente della provincia, che insieme al primario di cardiologia dell'ospedale di Bolzano parteciperà al primo appuntamento dedicato alla salute del cuore. Il 30 marzo a Merano si affronterà invece il tema del tumore al seno, mentre a Brunico, Bressanone e Silandro si parlerà di reumatismi, disturbi del sonno e prevenzione degli incidenti sugli sci. Affollata assemblea con sitina a Trento per i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, che hanno aderito allo stato di agitazione nazionale organizzato da CGL, CISL, UNSA ed FLP. La cronica carenza di personale e il carico di lavoro crescente, dicono i lavoratori, mettono a rischio l'obiettivo primario della lotta all'evasione fiscale. Inoltre, in Trentino, dove lavorano circa 300 addetti, mancano i dirigenti, gli uffici territoriali sono a rischio e chiusura. L'ufficio Monopoli, con soli cinque dipendenti in tutto il Trentino Alto Adige, non è più in grado di fornire i servizi minimi. Tanta folla nella chiesa parrocchiale di Santa Maria a Rovereto, dove si sono svolti i funerali di Carlo Spagnoli, il medico missionario morto domenica scorsa all'età di 70 anni. La sua è stata una vita spesa per l'Africa, dove ha realizzato centri per i bambini orfani e molte adozioni a distanza. È sempre stato dalla parte degli ultimi in Eritrea, Uganda, Etiopia e Camerun. Una cerimonia partecipata che è stata anche trasmessa in diretta streaming per chi non vi ha potuto prendere parte. Venerdì ci colleghiamo con Meteo Trentino per le previsioni del tempo. Questa mattina c'è Erika Cova. Buongiorno a tutti. Partiamo dalle temperature che questa mattina sono di meno 2 gradi a Bolzano e meno 3 gradi a Trento. Per quanto riguarda le massime sono previste stazionari o lieve aumento attorno ai 12-14 gradi, con zero termico a 2200 metri. Dalle immagini satellitari vediamo qual è la situazione su scala europea. Vedete c'è un'ampia vasta pressione che si allunga su tutta l'Europa centro-occidentale con correnti settentrionali che investono la nostra regione. Correnti settentrionali che sono finalmente meno intense rispetto a quelle che abbiamo visto nei giorni scorsi. E ci garantiscono però una giornata serena. Come avete visto il cielo è sgombro di nubi questa mattina e tale rimarrà per tutto il resto della giornata. Noi ci sentiamo più tardi per le previsioni meteo per il fine settimana. Grazie Erika Cova. Ci sentiamo proprio più tardi in chiusura. Io intanto do il benvenuto a Laura Pedron, dirigente generale dell'Agenzia del Lavoro per la provincia di Trento. Grazie per aver accettato il nostro invito. Dottoressa Pedron, cosa fa l'Agenzia del Lavoro per facilitare l'occupazione in provincia di Trento? Buongiorno e grazie a tutti voi. Noi come Agenzia del Lavoro facciamo una serie di attività. Innanzitutto ci occupiamo di incontrare le persone in cerca di lavoro, cercare di capire i loro bisogni, le loro aspirazioni e cercare di collocarle nel modo migliore possibile sul mercato del lavoro. In questo offriamo a queste persone delle occasioni anche formative e quindi gli diamo la possibilità di acquisire delle competenze che magari non avevano fino a quel momento. Oltre a questo ci occupiamo chiaramente di seguire le persone che hanno bisogno di collocamento mirato, quindi di un accompagnamento più di dettaglio e cerchiamo di facilitare degli altri processi all'interno del mercato del lavoro per migliorare le condizioni di lavoro sul territorio trentino. E oltre a questo chiaramente nel momento in cui i datori di lavoro assumono delle persone con determinate caratteristiche eroghiamo anche degli incentivi all'assunzione. Entriamo proprio in alcune di queste azioni concrete. Avete attivato recentemente un importante servizio per far incontrare domanda e offerta nei settori del turismo e dell'agricoltura, quindi in quei lavori a carattere stagionale che risultati sta dando questa sperimentazione? In generale nell'ultimo anno abbiamo investito tanto sull'incontro domanda e offerta andando a capire quelli che erano i bisogni degli imprenditori trentini e le caratteristiche dei lavoratori che stavano cercando. In questo chiaramente abbiamo lavorato nei due settori grossi che sono importanti per il nostro territorio che sono da una parte il turismo e dall'altra l'agricoltura, settori che lavorano tipicamente sulla stagionalità e che assumono grandi numeri di persone e abbiamo avviato l'anno scorso per il settore dell'agricoltura la prima raccolta di liste di persone disponibili a lavorare nell'agricoltura che poi abbiamo dato sia alle associazioni di categoria sia ai singoli imprenditori. Devo dire che è stata una prima sperimentazione interessante che ci ha permesso di collocare diverse persone al lavoro. Poi abbiamo fatto la stessa cosa per la stagione invernale nel turismo e quindi questo ci ha portato ad avere un'altra lista importante di lavoratori che abbiamo accompagnato verso gli alberghi anche organizzando dei career day, quindi dei momenti di incontro. Tra pochi giorni ci sarà un evento in tal senso? Sì, il 12 febbraio arriva, faremo il career day per la stagione un po' più lunga di Riva e poi partiremo a seguire con tutti i career day per la stagione estiva nelle diverse valli del Trentino. Quindi lo dico, se ci sono dei lavoratori interessati a lavorare nel settore turistico sono aperte le iscrizioni sul portale di agenzia del lavoro proprio per inserirsi nelle liste e partecipare a questi career day. La disoccupazione, Pedron, a settembre 2019, il dato ISTA diceva 4,4%, un dato sicuramente buono nella situazione complessiva nazionale, però è un dato che segna un 1% in più rispetto a 12 mesi prima, al 2018. Oggi qual è la situazione? Allora, la situazione oggi è che possiamo dire che il nostro territorio ha una disoccupazione per il momento e speriamo che sia così di carattere strutturale. Cioè sostanzialmente delle persone che si stanno affacciando al mercato del lavoro, stanno cercando un impiego, delle persone che hanno di fronte a una crisi aziendale perso il posto di lavoro e stanno cercando una nuova ricollocazione. La cosa positiva è che nell'ultimo anno abbiamo visto un incremento notevole dei contratti a tempo indeterminato. Su questo proprio i sindacati recentemente avevano espresso una preoccupazione. Allora, oggi, guardando lo scorso anno, possiamo dire più 23% rispetto ai contratti a tempo indeterminato. chiaro che i contratti sono legati al ciclo economico, quindi adesso siamo in una situazione abbastanza di osservazione anche di quello che è l'andamento economico e quindi poi vedremo piano piano. Quello che io posso dire è che oggi quello che noi percepiamo nel mercato del lavoro, quindi nella ricerca, sono aziende che cercano lavoratori. Noi abbiamo circa 10.000 richieste di lavoratori all'anno pubblicate solo sul nostro portale e non abbiamo situazioni di grandi crisi. Abbiamo sicuramente situazioni, magari, aziende che chiudono con 20-25 lavoratori a casa. Sono però numeri gestibili, quindi sono dei numeri che noi riusciamo a prendere e accompagnare con delle azioni mirate verso altri settori lavoratori. Avrei voluto chiederle, parlare anche di giovani, mercato del lavoro, magari mi riservo di chiamarla anche in futuro. Chiedo ancora 25 secondi per dire cosa cambia sul progettone, se ne è parlato tanto ultimamente. Allora, noi stiamo cambiando l'organizzazione di presa in carico delle persone. Sostanzialmente abbiamo progettone, lavoratori socialmente utili, quindi in Trentino ci sono tante misure di accompagnamento delle persone con fragilità nel mercato del lavoro. Stiamo cercando di fare una presa in carico unitaria e poi dopo una gestione nei diversi cosiddetti cantieri sul territorio. Quindi in questo senso stiamo riformando un po' il settore. Grazie Laura Pedron, buon lavoro e arrivederci presto. Allora, io mi sposto dall'altra parte del tavolo perché è il momento delle prime pagine dei quotidiani. Apriamo il Corriere del Trentino. L'apertura dedicata all'influenza colpiti 6.500 trentini. L'azienda sanitaria, il peggio, deve ancora arrivare. Sono stati distribuiti fino ad ora 100.000 vaccini. La fotografia centro pagina, lo hacker lascia piazza fiera e la brand sospeso non è in linea. E poi per quanto riguarda l'università, di spalla giurisprudenza può respirare. Sono stati garantiti nuovi spazi presso l'ex CTE. A Palazzo Thun, in salita il piano turistico, dura la Lega, dice superficiale. L'assessore stanchina replica, c'è stato un iter partecipato. E poi lo sport, Cagnotto dalla Pemissione Ulifica, Tuffi, parte oggi dalla piscina Bolzanina, la rincorsa per un posto verso Tokyo. La prima pagina dell'Adige, scuola, concorsi per 3.000 in primavera, via la sostituzione del personale che è andato in pensione e via libera anche alla raccolta delle domande riservate al personale di segreteria. Coronavirus, 30 in arrivo dalla Cina, questa è la previsione per il mese di febbraio. In taglio alto, gli spettacoli Sanremo, Giorgina e Ronaldo star al festival. Ieri sera anche la presenza di Roberto Benigni. E poi per quanto riguarda l'economia, contribuenti e fisco in Trentino cause per 160 milioni. A Rovereto l'addio a Carlo Spagnoli. E poi per quanto riguarda basket, un'intervista al giocatore dell'Aquila, Kelly. A centropagina la fotografia del treno Frecciarossa del Ragliato con la morte dei due macchinisti sulla linea Milano-Salerno. E poi ancora a centropagina, rogo in cucina, anziani salvi per il fumo marito e moglie in ospedale. La prima pagina del Trentino, otto sedi senza medici di base, l'apertura dedicata dunque alla sanità, pubblicato un bando per rimpiazzare 22 pensionati. Quindi autobus urbani, ritardi intollerabili. Ecco perché in città scegliamo l'automobile. E poi ancora anche qui il saluto al dottor Carlo Spagnoli. E a centropagina un'altra discarica a cielo aperto. Una segnalazione che abbiamo ricevuto anche noi e che trovate non solo sul giornale di oggi, ma anche sul nostro sito web rai.it slash tgr trento dove l'apertura è dedicata al candidato sindaco del centrodestra Baraccetti, un avvocato per il centrodestra. Appunto questo è il titolo ed ora la linea Bolzano. Iniziamo dal quotidiano Alto Arige. Vediamo il titolo di apertura. Troppe chiamate inutili al 112, la centrale unica di emergenza. Ogni giorno 700 richieste telefoniche, ma il numero di quelle non necessarie, addirittura del 35%, è così sovraccaricate gli operatori. In alto invece Landini, il segretario generale della CGL, era ieri a Bolzano. Troppi diritti negati, adesso bassa, il lavoro va difeso. La fotonotizia riguarda un furto, diciamo così, di classe, dice il giornale. Porti, c'è con l'attaccheggiatrice di classe in azione in centro a Bolzano. Spariti i sandeli da 400 euro e poi di spalla, 12 colpi al parcheggio della funivia ladri scatenati. Nivea di sala apertura del Corriere dell'Alto Arige, la guardiamo insieme, blocchi austriaci, in Campo Conte il premier di vieti contrarie alle norme dell'Unione Europea, ma serve dialogo, tir a gennaio meno transiti. La risposta in Parlamento è un'interrogazione di Unterberger, della Svop e Comf Trasporto. Bene, ora però azioni concrete. Poi la fotonotizia che riguarda i mezzi elettrici al posto del tram Metrobus. Ecco le cinque linee corse per accedere ai fondi, poi in Consiglio Provinciale, temi trattati identitari, Catalogna Libere, Prefettura, tensioni nell'Alto Arige e in coalizione. Anche il quotidiano Dolomiten apre con le chiamate inutili, al 112 sono tante, poi di spalle vediamo una buona notizia. Sì alla donazione di organi, in tre anni sono state più di 10.000 le dichiarazioni aggiuntive. Chiudiamo per quanto riguarda i quotidiani con la Target Site. Non ci discriminate, a dirlo è Yang Hong Lin, che è la consulente provinciale per l'integrazione, che parla di questa isteria contro i cinesi per il coronavirus. Chiudiamo con il nostro sito web, rai.it slash TGR Bolzano. Anche noi viviamo per adesso in pagina, in primo piano. Conte incontrerò Curz per discutere dei divieti di transito ai tir e poi tutte le altre notizie. È tutto da Bolzano, di nuovo in linea a Silvano Plonera. Ma rimaniamo in Alto Arige perché la provincia di Bolzano accelera sulla mobilità green. Infatti ha acquistato 10 nuove automobili alimentate ad idrogeno ed ha lanciato anche la realizzazione di distributori dedicati a questo tipo di veicoli. Fabio De Ponte. Una mobilità senza emissioni, possibilmente alimentata con fonti rinnovabili, è a chilometro zero. È il sogno al centro del progetto Life Alps, grazie al quale la provincia di Bolzano ha acquistato 10 nuove auto a idrogeno Hyundai, vetture dal costo di circa 80.000 euro l'una che saranno noleggiate ai vari enti, prevalentemente pubblici del territorio. Tra questi l'Eurac, l'Alperia e il centro di Leimburg. Le nozzarie emissioni hanno quello che oggi la mobilità cittadina vuole. Riforniamo in 5 minuti e emettiamo vapore e acqua. Quindi la soluzione alla mobilità sostenibile delle nostre città. Le nuove macchine si aggiungono alle 10, già acquisite in un progetto analogo del 2013, ma il piano è più ambizioso. Vogliamo creare cosa? Creare la possibilità che questa mobilità a emissioni zero sia disponibile per tutti. Quindi non solo per le istituzioni pubbliche, ma soprattutto per i cittadini. Proprio per questo saranno realizzati 5 nuovi distributori di idrogeno che saranno pronti in 3 o 4 anni. In modo da rendere possibile per chi volesse acquistare un'auto con questa tecnologia, circolare senza preoccuparsi di rimanere a secco. Uno sarà a Brunico, un altro a Glorenza, poi uno a Merano e un altro a Bolzano. E poi uno anche a Affi o a Verona Nord, diciamo gestito dall'auto Brennero. Il costo complessivo del progetto è poco meno di 23 milioni di euro, 8 dei quali finanziati dall'Unione Europea. Impostata la costruzione dei distributori, il passo successivo sarà poi quello di realizzare centri di produzione dell'idrogeno, in modo da attingere a fonti di produzione energetica locale. Obiettivo finale è l'autonomia anche in campo energetico. La 22 ha realizzato l'impianto per la produzione e la distribuzione dell'idrogeno a Bolzano. Ha intenzione di realizzarne altre 4 lungo l'asse del Brennero. Una a Brennero, una fra Trento e Rovereto, una nell'intersezione di Verona e una in fondo a Modena. Questi nuovi impianti costeranno 10 milioni di euro. Intanto però ogni giorno sull'autostrada passano 45 mila veicoli e così è in piedi anche un progetto sperimentale per ridurre l'inquinamento con le auto tradizionali, grazie a un sistema molto innovativo. Vengono adeguati i limiti di velocità in funzione delle situazioni, dei livelli di traffico oppure di emissioni degli inquinanti. Il progetto si chiama Brennero Corridoio a basse emissioni e ha dato finora ottimi risultati, riducendo non solo l'inquinamento ma anche gli incidenti. È tempo di carnevale. Sono molte le tradizioni che si rinnovano nelle valli trentine mentre il Museo degli Usi e Costumi Locali di San Michele all'Adige è impegnato in un importante lavoro di ricerca sulle maschere che accomunano tutto l'arco alpino. Alessandro Franzi ne ha parlato con Daniela Finardi. Delle figure che sicuramente si ritrovano molto spesso sono quelli che noi chiamiamo la Chei, la Che di Romeno piuttosto che di Corredo o gli Arlecchini di Val Floriana, sono quelli famosi, ma anche il Buffon della Val di Fassa hanno tutte queste maschere con questi cappelli molto lunghi, vestiti bianchi, danzano, silenziosi. È una figura che ricorre veramente anche in tutta Italia, dal sud Italia fino al nord Italia e c'è sempre questa figura danzante, muta che rappresenta in genere quel gruppo di servitori che seguono una coppia di sposi. Perché? Perché il carnevale è il momento di risveglio della natura. Perché è importante oggi fare ricerca su questo? Quanto poco si sa? Si inizia a ragionare un po' di più su questo argomento. È importante perché fa vedere come in realtà siamo tutti molto simili nelle nostre origini e questi confini che in realtà sono politici non sono in realtà dei confini reali anche per quanto riguarda le nostre tradizioni e le nostre origini. Qua ci troviamo nella sala del museo degli usi e costumi di San Michele. Il visitatore qua che cosa trova? Trova ovviamente le maschere originali, ma abbiamo ovviamente i costumi originali di diverse mascherate e una particolarità è che questa sala raccoglie delle immagini 3D, quindi delle vere e proprie stampe di foto, però diciamo formato statuetta, però sono delle vere e proprie foto di personaggi che oggi attualmente interpretano persone, che oggi attualmente interpretano i personaggi del carnevale. Ed ora andiamo in Alaska dove sono le 21.54 ma del 6 e non del 7 febbraio perché proprio in Alaska sta frequentando il quarto anno del liceo Lorenzo Caola di Pinzolo. Sono molti i giovani trentini che colgono l'opportunità di andare a frequentare un anno delle scuole superiori all'estero. Se ne conoscete alcuni in posti lontani o curiosi segnalateci. Andremo a cercarli, li contatteremo e faremo come abbiamo fatto con Lorenzo. Chiederemo loro di inviarci un video per farci vedere quello che fanno e dove stanno. Vediamo dunque quello che ci ha mandato. Ciao, sono Lorenzo e sto frequentando il mio anno all'estero qui in Alaska. Qui è dove faccio usci di fondo ogni giorno. Questa è la mia scuola. Sono capitato in Alaska per puro caso e all'inizio ero un po' spaventato ma alla fine è un posto bellissimo e non è molto diverso dal resto degli Stati Uniti. Più precisamente abito a Kenai, una piccola cittadina a tre ore da Anchorage famosa per la pesca al salmone. Fa talmente freddo che la neve non riesce a sciogliersi. Devo smentire alcuni stereotipi. Per esempio non è sempre notte. Non è così selvaggia come tutti pensano. È sempre bello vedere alci camminare attorno alla nostra casa o vedere alci ogni giorno mentre vado a scuola. Ciao Italia! La segnalazione di questa mattina arriva dalla signora Luca ci porta a Canezza nella comune di Pergine, Valsugana dove la tempesta vaia nel 2018 ha distrutto il ponte della ciclabile sul torrente Fersina. Luca chiede come mai dopo un anno e mezzo, quasi un anno e mezzo non sia ancora stato ripristinato questo ponte. Abbiamo interpellato il sindaco di Pergine, Osemeri, il quale ci ha detto che dopo aver chiarito una questione di competenza con il servizio dei bacini montani l'amministrazione stessa ha preso in carico la situazione ed ha avviato il progetto per riposizionare una nuova passerella. Ci vorranno però ancora alcuni mesi. Grazie a Luca per averci fatto notare questa situazione continuate a farlo anche voi ai numeri 334-6568-238 per l'Alto Adige 335-8183-610 per il Trentino. Ed ora torniamo da Sergio Mucci per tutte le altre notizie. In chiusura anticipata della sessione di febbraio del Consiglio provinciale del Totesino la maggioranza infatti non aveva che due mozioni da presentare. È molto discussa quella firmata del capogruppo Esfope Gerhard Lanz in solidarietà agli indipendentisti catalani. Fra stensioni, rinuncia al voto e contrari è passata con i voti della destra lingua tedesca oltre che quelli della Esfope. Anche i ferrovieri che lavorano in Trentino aderiranno oggi allo sciopero di due ore dalle 12 alle 14 indetto dalle maggiori sigle sindacali a favore della sicurezza dopo l'incidente che ieri è costato la vita a due macchinisti. Non potranno partecipare allo sciopero per motivi contrattuali dipendenti di Trentino Trasporti che operano sulla Val Sugana. Sei giovani, tutti fra i 23 e i 25 anni sono rimasti coinvolti in un incidente stradale all'altezza della Galleria di Mezzo Lombardo ieri sera poco dopo le 23. Cinque feriti, il più grave è rimasto incastrato fra le lamiere, sul posto i vigili del fuoco numerose ambulanze oltre all'elicottero sanitario. Lo sport, hockey serie A, stasera ad Asiago si giocherà a gara 2 della finale Scudetto il Val Pusteria dopo il successo in casa ha la grande opportunità di conquistare il titolo si rina d'avvio alle 20 e 30 e per i tuffi da oggi a Volzano la Coppa Tokyo, Tania Cagnotto e Francesca Dallapè nel sincro sono alla ricerca della qualificazione olimpica. Tutto da Volzano a linea Silvano Plomio. Grazie Sergio e buon fine settimana per quello che ci attende invece sotto il profilo meteorologico torniamo da Erika Cova. ben ritrovati andiamo insieme a vedere appunto che cosa ci aspetta per questo fine settimana con le correnti che tenderanno a mettersi dai quadranti occidentali nella giornata di sabato e di domenica sarà comunque una giornata in gran parte soleggiata anche se nel corso di sabato avremo un po' di transito di qualche nube alta e poi sulla serata di domenica un aumento della nuvolosità per il resto del weekend tenderà a dominare il sole le temperature saranno stazionarie nei valori minimi sabato in lieve calo nei valori massimi in lieve aumento nei valori minimi domenica in calo nei valori massimi questo è tutto per questo fine settimana ci vediamo lunedì mattina grazie Erika Cova e a Meteo Trentino per le preziose informazioni dunque un fine settimana all'insegna del bel tempo noi siamo davvero in chiusura continuate a seguirci anche sui nostri profili social sui siti web delle redazioni di Trento e Bolzano per salutarvi sconfiniamo alle mie spalle vedete questa bella immagine che ci giunge in diretta dalla provincia di Belluno siamo nel comune di Pieve di Livinallongo la veduta è da Portavescovo sulla marmolada sulla regina delle Dolomiti con questa bella immagine dunque a voi tutti il più cordiale e sereno augurio di un buon fine settimana